hai sentito la notizia storie italiane con eleonora daniele sta per finire sì hai capito bene dopo un lungo anno insieme alla conduttrice il programma si concluderà il prossimo venerdì il 31 maggio 2024 ma non tutto è perduto perché verrà sostituito da un'estensione di uno mattina fino a mezzogiorno quindi non ti annoiare ci saranno alessandro greco e greta mauro ad accoglierti al mattino su rai 1 eleonora daniele però non se ne va del tutto resta solo un arrivederci continuerà a lavorare in altri progetti come la partecipazione alla giornata mondiale dell'infanzia voluta da papa francesco sarà impegnata in diversi eventi quindi non ti preoccupare la vedrai ancora in tv dopo gli impegni lavorativi infine eleonora daniele potrà finalmente godersi le vacanze estive con la sua famiglia ma non temere tornerà a settembre con una nuova edizione di storie la sera e forse anche di medici in corsia quindi non disperare la tua conduttrice preferita farà ancora parte della tua routine televisiva quindi si è triste che storie italiane stia per finire ma guarda il lato positivo avrai modo di conoscere nuovi volti e di seguire eleonora daniele in nuove avventure non ti resta che aspettare settembre per vedere cosa in serbo per te e nel frattempo goditi l'estate e preparati per un ritorno in grande stile della tua conduttrice preferita